Uffa, perché Virginia doveva fare un figlio proprio adesso? Proprio adesso che, insomma, stavamo andando d'accordo tutti in famiglia. Non è giusto. Ma con chi sta parlando, Nicole? Uff, lo so già, succederà come in tutte le storie e i film, che i genitori guardano solo il bebè e mi ignoreranno. Mia mi sembra felice, quindi lei non verrà ignorata. E io invece sì, e non posso dirlo a nessuno, se no apparirò come la cattiva. Ah, oh, chissà se Mia lo sa, le lo vado a chiedere. Non so proprio cosa fare. Anche lei sta parlando da sola. Si vede proprio che è triste. Cavolo, non mi aspettavo Luigi così. Sì, magari è cambiato, ma cavolo, Nicole non meritava di essere ignorata. Ignorata? Ma, ma quello è il computer di Nicole? Ma cosa stai guardando? Oh mamma, se è tardi, sta per iniziare la mia serie preferita. Devo andare. Oh mamma, sta per uscire? Eh, mi metto qui e faccio finta di spolverare. Veloce, veloce, veloce. Uff, vado un attimo a spolverare in camera vostra. Bene, ora vediamo cosa stava guardando sul suo pc. Sono delle foto di Nicole e le sue domestiche. Al mare, in montagna, a fare shopping, a casa. Ma non c'è mai Luigi. Prima ho sentito che Mia diceva che Nicole non meritava di essere ignorata. Luigi la ignorava. Ma non me ne ha mai parlato. Non me lo aspettavo. Non mi fa strano. Non mi sembra la persona che ignora. Vabbè, stasera gliene parlerò e chiariremo la situazione. Più tardi quella sera? Ok, adesso arriva. Gliene parlerò mentre giocheremo a scacchi. Eccomi tesoro, sono pronto per la partita. Sì, dunque, ti dovrei chiedere una cosa. Certo, dimmi. Ecco, ho visto che Mia stava spirciando nel computer di Nicole. E sono andata a vedere cosa guardava. E ho visto delle foto di Nicole adesso, anche più piccola, che era in montagna, al mare, che ne so, da dei parenti, amici, insomma, ovunque. Ma sempre con le domestiche e mai con te. Mia ha detto che Nicole non merita di essere ignorata. Non me l'avevi mai detto? Perché ignoravi Nicole? Ah, eh, Virginia, non è come pensi. Non è che io la ignoravo. È che a quel tempo eravamo molto, molto ricchi. E per essere bisogna molto lavorare. Nicole era tutto il giorno a casa con le domestiche. Io la vedevo un po' alla sera. No, e quando andavo in giro, spesso dovevo avere riunioni di lavoro o lavorare di più. Però ogni tanto la vedevo. E peccato. Poi ho conosciuto te e ho capito che era più importante la famiglia che i soldi. E poi, vabbè, ci siamo trasferiti. E la mia vita è migliorata. Ho capito. Poi l'ho sentita parlare in bagno. È preoccupata per il bambino che lei verrà ignorata. No, dai, no, dai. Gli faremo cambiare idea. Sì, infatti, noi guarderemo tutti e tre. Il mattino dopo? Buongiorno, Nicole. Buongiorno, mia. Ehi, hai visto il nuovo articolo? Guarda. Che c'è? Devo andare a fare colazione. Ci sarà una festa di carnevale organizzata dagli popolari. Dobbiamo subito andarci. Non hai letto in fondo all'articolo? C'è scritto No, Mia e Nicole. Oh, d'altronde c'era da aspettarselo. E poi non avevo nessuna voglia di andarci. Che cavolo, mi sarebbe molto piaciuto andarci. Avrei potuto passare del tempo con Nicole e distrarla. Idea! Potremmo intrufolarci. Ehi, 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 Nicole. Ho un'idea che ti tirerà sul morale. Perché io non ho il morale giù. Sì, certo. Allora, so che volevi tanto andare a quella festa di carnevale. Non è vero. Beh, ci intrufoleremo. Cosa? Ma sei impazzita? E se ci beccano? Ci fanno fare una figuraccia di... Non so. Bruttissima. Dai, io l'avevo già fatto una volta con il mio amico Kevin. Cosa? Tu eri amica di Kevin? Oh, sì. Anche di Mike. Un tempo erano gentili. Poi è venuto Liam che li ha rovinati. Oh, mi dispiace. Non hai mai avuto amiche femmine? No. Comunque, noi ci intrufoleremo a quella festa. Assolutamente no. Te l'ho già detto. Non voglio essere beccata e fare una figuraccia. Già ci prendono in giro così. Non voglio essere presa ancora più in giro. E dai, non possiamo passare il carnevale a casa da sole. Beh, lo passiamo sempre. Lo faremo anche questa volta. E dai, poi non dico di stare tanto. Possiamo anche stare solo un attimo a dare un'occhiata. E poi ci travestiremo super bene. Cambieremo anche acconciatura. Va bene, lo facciamo. Yeah! Solo perché mi hai convinto che cambieremo acconciatura. Forza, dai, andiamo a comprare i vestiti e cambiare acconciatura. Va bene. Continua. Stellina, il nostro episodio finisce qui. Ve lo aspettavate che lei era gelosa del nuovo fratellino? E ve lo aspettavate che Luigi la ignorava per il lavoro? E secondo voi è una buona idea intrufolarsi alla festa? Diteci questo e iscrivetevi, lasciate like e condividete il video. Ciao!